ragazzi bello a tutti oggi andremo un po a sperimentare qualche minchiata con un tubo al neon questo è un normale tubo al neon che ho preso da una vecchia lampada di quelle che servono per attirare gli insetti tubo al neon poi il tubo fluorescente diciamo come si chiama di quelle servono per attirare gli insetti nelle lampade quelle stermina insetti e proviamo ad accenderlo senza usare nulla un ballast un reattore uno starter ma accendendolo con la normale tensione che abbiamo sulla nostra rete e vediamo un po che cosa succede allora essenzialmente noi che cosa abbiamo abbiamo il nostro tubo al neon così uso la lavagnetta così magari qualcuno non dice che sono bravo sulla scriba chiare sulla carta il tubo al neon a due filamenti che sono messi in questo modo e qui dentro ovviamente ci sarà ci sono il famoso gas con vapore di mercurio noi andremo a dare la tensione 220 volt su questi capi senza interporre niente in mezzo nessun reattore nessun ballast e da quest'altra parte di questi capi andremo soltanto a mettere un voltmetro per vedere un tester per vedere che che succede alla tensione a quella 220 quando la faremo passare attraverso il tubo e piazzeremo anche il nostro piccoletto oscilloscopio per vedere che succede quando daremo la tensione al tubo allora abbiamo fatto i nostri soliti collegamenti da suicidio perciò non lo fate non lo rifate perché è abbastanza pericoloso ho portato i due le fasi della 220 qui dentro la lampada qui ovviamente c'è il piccolo avvolgimento che abbiamo visto prima nello schema che esce da quest'altra parte quest'altro riesce da quest'altra parte e qui ho collegato soltanto il multimetro e l'oscilloscopio come vedete ci sono 197 volt e abbiamo la nostra onda sinusoidale della tensione di rete ovviamente qui sono attaccato al trasformatore di isolamento c'è una piccola caduta dovuta alle due resistenze che sono qua dentro i due filamenti praticamente fungono da resistenza perciò abbiamo una lieve caduta sulla tensione adesso per avviare la lampada non abbiamo ovviamente uno starter perché qui ci abbiamo collegato i nostri strumenti ma useremo la nostra mano l'elettricità statica che noi generiamo strofinando perciò quella poca elettricità statica che io genero strofinandomi la mano da qualche parte ecciterà il gas con i vapori di mercurio e darà l'avvio alla lampada vediamo se riesco ad avviarla devo strofinare una mano contro l'altra eccola qua avete visto che è bastata un po di elettricità statica ecco che la lampada è entrata in funzione e possiamo vedere che la tensione è caduta a circa 40 volt e l'onda si è trasformata in quest'onda quadra praticamente diamogli un po più di enfasi vediamo se la riusciamo a vedere ecco qua si è trasformata in quest'onda adesso se io ovviamente le tensioni queste non le guardate perché questo oscilloscopio non ha la funzione questo altro piccolino che ho non ha la funzione di impostare il per 10 all'interno del software e adatta le tensioni al per 10 della sonda perciò noi vediamo tensioni che sono sballate qui lo usiamo solo per vedere il tipo d'onda se io adesso spengo la lampada riaccendo vediamo che siamo ritornati un'altra volta sulla tensione di 196 volt vediamo se riusciamo a vedere quello che succede nel momento in cui do la reazione alla lampada ok sto strofinando ecco che la lampada comincia ad accendersi come accende ecco la variazione d'onda ed ecco la caduta che c'è sul voltaggio della lampada ovviamente staccando tutto questo la serie degli strumenti come vedete adesso la lampada sta funzionando attaccata alla normale linea 220 senza interporre in mezzo un reattore o qualsiasi altra cosa possiamo andare a vedere che cosa succede alla tensione nel momento in cui do l'avvio alla lampada adesso sto con la mano sulla lampada ecco che si avvia la tensione cade e immediatamente come parte alla sua caduta a 40 volt perché praticamente adesso il flusso di elettroni che sta percorrendo la lampada e sta eccitando praticamente il gas sta passando tutto all'interno della lampada e qui c'è rimasta solamente una tensione praticamente piccolina quella tensione che praticamente fa aprire chiudere lo starter quando si accende la lampada al neon a seconda della tensione che passa lui apre e chiude per dare l'avvio alla lampada noi in questo caso l'abbiamo data con l'elettricità statica che abbiamo nelle nostre mani e niente spero che questa piccola curiosità vi abbia intrigato vi abbia fatto divertire un abbraccio un saluto ci vediamo alla prossima ciao ciao bella ragazzi